Bene ragazzi bentornati qui sul canale Granas e siamo qui oggi con un nuovo video molto simpatico Molto swag E il video sarà Scusa se posso leggermente Ah stiamo guardando il visorino comunque No io sto guardando qua E io non sto guardando là Bravo coglione E il video sarà Draw Che che Vabbè disegna i pokemon Nel senso Noi disegneremo i pokemon E voi dovete indovinare che pokemon è Poi vi faremo vedere comunque l'immagine reale di che pokemon era Quindi le nostre doti artistiche verranno fuori tutte in questo video E qua c'è un polybag che avevo fatto io prima Sì Bellissimo Sì Video new pokemon Inizio io Inizio io Inizio io Inizio io Questo è facilissimo Sì sì Loro non lo vedono Sì sì Che cosa stai facendo Stai tranquillo Stai tranquillo Che cos'è Vai è popo easy qua Ma che easy È popo easy Guardalo Guardalo E' uguale Tu hai un altro pokemon Di quello che hai detto di jogga Godzilla È Godzilla Ma perchè gli mancavano queste cose qua Ora si capisce perfettamente Che è poco Eh avete capito tutti vero No Vabbè chi era Era Geritos Era Geritos Che poi non si chiama Geritos Tipo Geritos Noi li chiamiamo all'italiana Sì Geritos Va è facile questo Ecco Che cazzo è Ma come l'hai fatta Ma che è un ala Ma che hai fatto Stai tranquillo Ma cosa stai facendo Stai zitto Ma non devi selezionare quel colore Ma guarda che merda che stai a fa Cioè che Ma che cazzo stai a fa Sperancione Ahah Ahah Sì certo Eh beh Se capite questo e non capite quello di prima Ma c'è Dai che è facile Ma che è facile Ma che cazzo hai fatto Caterpie E uguale dai E uguale E uguale Ma che hai fatto Vabbè Che culo Più facile E uguale più facile Masivo Sti cazzi Facciamo così Bello Vedo bene questo dai Oh cazzo Ma che è Sono uscito fuori Vai Ta 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 Vabbè Vabbè era Eh 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 Omanyte Io manco mi ricordavo come si chiamava Figurate Vai Vai così Vai vai Fallo fallo Stronzo fallo vai Allora Bello Che è agressa Che è Goku Ma che cazzo Ma che è Ma che è Ma che cosa stai facendo È quello che è il Pokemon Aspetta 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 panca l'occhio Vai che un po' si capisce Fatto Ahah Si capisce Eh la fa Dai che si capisce Poi poi io vi dico Secondo voi No perché vabbè Si è capito più o meno Che poi non è Ma È PJ o Spiro Da ma si vede che è PJ No Non si vede che è PJ Ma che hai fatto Ma che è Madonna Dai hai fatto bene Vabbè vai Olè Benissimo Che culo però eh Ma te tu ti faci L'idegabile Ma stasso Quale faci Dai questo basta che fai Quello della pancia L'hai fatto E si è capito Ma no Ma questo deve essere perfetto Quanto cosa senti Rimane il tempo Per disegnare la parte più importante Mamma mia Ma che è Cos'è questa cosa Ma che mi lascia perde Ah cazzo La parte più importante è questa Ma vabbè Ossè subito Sono un po' andato oltre Sono un po' andato oltre Aiuto C'è Ma sei Ma sei capisce Si capisce C'è Ma hai fatto bene io E vabbè Qua è rosso E qua è bianco Easy Easy Si capisce Una palla Che è Che è Moltissimi Grando Electrode Invece è Voltorb Cazzo di merda Vabbè Vai Dai Porco due Dronew Che cazzo Mi parezza entra un po' l'aglio Fatto E' finito Si capisce pure così Ma ma calacilo Fanno così Dai Ma non è che serve Faccio occhiettime tutti quanti Si si fa un bombone Vuole Pokémon swag Mamma mia Vabbè Era facile Dai Si E' exeggcute E' exeggcute E' exeggcute E' exeggcute E' exeggcute E' exeggcute Mamma mia Ma che hai fatto Ma che è una catenella Ma che E' certo Madonna Vabbè E' più o meno così Si E' più o meno così E' più o meno così Tu era Che è snake Che sono giro Al contrario Sbam Sbam Vai Vai La prima cosa dobbiamo fare questo E' un porco Oh ce sta dai Si peccato Devi scegliere un altro colore Quello è un pene Non è un pene Eh 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 Che Non si capisce Mi pare Ma che cazzo è Per cosa Nel nome del padre Che cazzo Vabbè Lui era Pulpix Il cagnolino del prete Vai Porca troia Ma che so Le onde del mare Si capisce Zitto E' la mucca Le mucche fanno mu Eccolo Eccolo Sono tutti i pene Si migliora Faglielo il pene Che magari aiuta Devo fare tre Ma no Vabbè Questo era lo scroto Questo Un piccolo pene Questo qua Qua per farvi capire Eh Eh La tartaruga Ho aiutato una cifra Era Ma Ciampo Mamma mia Mamma mia Questo non si può fare pippe No Come Poi lo vedranno anche loro Perché non si potrà fare pippe Che in modo Ma fa tutto il resto Però Si C'ho messo 20 secondi Soltanto per fare il corpo Allora aspetta Mui faccio vedere Che insomma fa i pippe Eh 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 Si Eh si Questo si che è fatto bene Qua c'era un corpo Però non faccio un tempo a fallo Finito E lui era Cabuto Cabuto Eccolo Cacco L'hai fatto identico a un altro Oh Eh Questi Questi piccoli dettagli Che vanno Presi con le pinze Dai che finisce il tempo Finisce il tempo Oh Dai questo lo potete capire Su Questo è un jigglypuff Però in realtà è un Clay Fairy Perché Perché è la cosa Perché questo tra l'altro Pareva un microfono Invece Era un dito medio Però vabbè Quindi con Clay Fairy Chiudiamo il nostro video Yes Speriamo vi sia piaciuto E se volete altri episodi Ovviamente arriviamo a 2500 likes E niente Dalle grana Se è tutto In descrizione Ci sono i link Pagina Facebook Tutto quanto E fateci sapere Se Niente Non fateci sapere come state Come state Tutto appogito Tutto appogito Bella Io